Leo, facciamo un'analisi del voto. A Crotone e non solo a Crotone il PD ha perso? Sì, la sconfitta è stata certificata dalle urne il 25 settembre. Il Partito Democratico ha dimostrato in tutte le regioni d'Italia che è scollato in questo momento dalla società civile, dai cittadini calabresi e dai cittadini non solo calabresi. E quindi ci sarà un momento di confronto all'interno del nostro gruppo dirigente, all'interno dei nostri tesserati e un congresso nazionale che deve essere più che un congresso una rinascita di questo simbolo. Il PD, il Partito Democratico, è sempre stato un partito del popolo. Come mai è cambiata la situazione? In questo momento siamo stati stretti tra la sinistra liberale di Calenda che ha parlato a un pezzo dell'elettorato, ovviamente, e la sinistra radicale rappresentati progressisti da Giuseppe Conte. Quindi in questo momento noi non siamo riusciti a rappresentare bene nell'una e nell'altra, restando in mezzo e rischiando di avere anche nei prossimi mesi un effetto tenaglia che c'è già stato in Francia tra Macron e Melanchon. Una rigenerazione del partito, avete messo in campo, perché tu sei il segretario provinciale e poi c'è anche la segretaria cittadina. In tutto questo il vostro compito quale sarà da subito dopo le elezioni? Il nostro compito, visto che la politica alla fine si traduce con i numeri dei risultati elettorali, è stato già quello di affrontare una battaglia nelle ultime politiche dove il Partito Democratico partiva dal 9% delle regionali di otto mesi fa e dall'11,2% delle nazionali del 2018 con Nicodemmo Oliverio candidato al collegio uninominale. Oggi al Senato siamo al 14,83%, alla Camera dei Deputati al 13,64%. Quindi c'è un risultato che premia, secondo me, la nuova dirigenza. Poi è ovvio che non abbiamo fatto tutto e noi dovremmo rappresentare il 30% degli elettori in questa provincia e ne rappresentiamo il 14%. Quindi c'è un dato di fatto che ci impone di fare una riflessione anche qua e di allargare il nostro gruppo dirigente per rappresentare sempre più quello che era il nostro popolo originario.